Il combinarsi di strumenti di tutela diversi, maturati in contesti ordinamentali diversi, non ha fino ad oggi purtroppo prodotto sul piano di tutela dei diritti fondamentali degli immigrati risultati significativi come pure ci si aspetterebbe. Questo però è una scarsa capacità delle corti internazionali di voler incidere su assetti ordinamentali nei quali si estrinseca una delle principali forme di esercizio della sovranità statale. Detto forse in maniera un po' più semplice, i giudici internazionali cercano di intervenire il meno possibile nella materia dei diritti fondamentali degli immigrati quando sono in gioco questioni fondamentali dal punto di vista degli stati. E questo è un atteggiamento che caratterizza sia la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sia la Corte di Giustizia. La Corte di Giustizia nelle sue pronunzie non affronta mai il tema dei diritti fondamentali. Sottolinea ed esalta invece un aspetto diverso, la capacità di garantire l'obiettivo della direttiva cioè il rimpatrio degli immigrati. Nel ragionamento della Corte il tema dei diritti fondamentali è assente ed è volutamente assente perché questa direttiva, Fulvio ricordava, è stato un risultato di un processo politico molto travagliato e molto complicato in cui come spesso accade in settore dell'immigrazione le posizioni degli stati sono molto divergenti, alla fine il risultato è un compromesso politico frutto di grandi equilibri, di grandi difficoltà e compromesso politico che la Corte alla fine vuole salvaguardare. Quindi detto che a meno a mio avviso non è certo questo un tempo felice per la tutela dei diritti fondamentali degli immigrati né a Lussemburgo né a Strasburgo, richiamo qui la pronuncia della Corte dei diritti dell'uomo proprio in materia di detenzione degli immigrati nel caso Sadi contro il Regno Unito di Gran Bretagna nel quale la Corte sostanzialmente lascia agli stati la possibilità di utilizzare la detenzione rispetto alla immigrazione come forma di non solo sanzione penale ma proprio come forma di contenimento dei flussi migratori. Nel testo previgente alla modifica di Lisbona il rinvio pregiudiziale in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia era possibile solo per il giudice di ultima istanza. Come sapete il rinvio pregiudiziale è il principale strumento di dialogo tra i giudici nazionali e la Corte di Giustizia è lo strumento attraverso il quale importanti pronunzie della Corte sono state adottate su sollecitazione dei giudici nazionali. Bene, con una scelta anche qui politicamente significativa il rinvio pregiudiziale non era utilizzabile se non dal giudice di ultima istanza. Con il trattato di Lisbona e con la sparizione dell'articolazione in pilastri dell'Unione Europea è venuto meno questo limite e questa è un'innovazione molto importante perché è possibile chiedere anche ai giudici del primo o del secondo grado di proporre alla Corte di Giustizia in via pregiudiziale o una questione di interpretazione o una questione di validità. I soggetti privati sarebbero esclusi da questo ricorso, in realtà attraverso il rinvio pregiudiziale riescono a ottenere dalla Corte una pronuncia che attraverso l'interpretazione del diritto dell'Unione Europea in realtà indichi che c'è un contrasto tra la normativa interna e la normativa dell'Unione Europea. Le due pronunzie alle quali Fulvio faceva riferimento prima, Eldridi e Subhajan, si muovono in questa direzione con un artificio che voi avrete trovato, quello della formula osta o non osta. Cioè la Corte dice, si pronuncia se la normativa comunitaria osti oppure non osti al mantenimento di una certa normativa nazionale che tradotto significa, vi dico, non in maniera esplicita perché non lo posso fare, se la normativa interna è in linea oppure no con la normativa dell'Unione Europea. Cioè questo è un grimaldello che è stato usato dai giudici nazionali, dalle parti private e quindi dagli avvocati per denunziare indirettamente violazioni del diritto dell'Unione Europea. Negli ultimi anni il numero dei ricorsi in via pregiudiziale in materia di immigrazione è notevolmente aumentato rispetto al passato e mi sembra che non sia chiaro soprattutto il rapporto tra l'ordinamento dell'Unione Europea e la capacità degli stati di regolare attraverso norme penali la questione dell'ingresso del soggiorno irregolare. Cioè mi sembra che la Corte non dica in alcun modo che questa potestà sia venuta meno. Mi pare invece anzi che la riaffermi, che la mantenga e che la lasci tanto a monte quanto a valle delle procedure reordinate al rimpatrio degli immigrati. Se è così, mi sembra che di timori sulla tenuta del sistema in termini di difesa dei diritti degli immigrati ce ne siano e debbano essercene ancora molti. Sono timori a mio avviso aggravati dal fatto che la Corte di Giustizia è molto poco sensibile al tema dei diritti umani. In un altro settore per noi sempre strategico, quello dell'asilo, la Corte si è pronunziata in una sentenza purtroppo nel ricordo degli estremi partendo da un dato. Nella direttiva è scritto che la direttiva rispetta i diritti fondamentali. Quindi io parto da questo punto di vista e sulla base di questo mi preoccupo di capire se è la normativa rispetta i diritti fondamentali. Io non credo che ci sia un legislatore il quale scriva nella sua legge sto violando i diritti fondamentali. Se è così, penso che per la tutela dei diritti umani non sia ancora un tempo felice. Grazie dell'attenzione. Grazie. 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 Grazie.